Un incendio è divampato nella mattinata di mercoledì 13 novembre intorno alle 9 a Feletto. Le fiamme sono divampate nella parte esterna laterale della sede della Federazione Italiana di Calcio Balilla, ex Lady Hamilton, e si sono estese intaccando la struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco di Ivrea, Volpiano e Carrofiamma che hanno domato e spento le fiamme. Presenti anche la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e la croce rossa di Rivarolo Canavese per precauzione. A lanciare l'allarme è stato il benzinaio vicino che ha visto alzarsi una grossa colonna di fumo nero, visibile a distriometri di distanza. Ingenti i danni, in corso gli accertamenti sulle cause, non si esclude che possa trattarsi di matrice dolosa, in quanto quell'area era stata chiusa lo scorso mese poiché utilizzata solo nel periodo estivo. «Leo che faccio ricche» «Leo che faccio alla scartabilità» «Leo che faccio a cura di soli» «Leo che faccio a cura di fracaggio» «Leo che faccio a cura di soli» «Leo che faccio a cura di soli» Grazie a tutti.